Il blitz dei carabinieri è scattato sabato sera, quattro gli appartamenti perquisiti tutti nel monte bellunese. In uno di questi sono stati trovati alcuni ragazzi che, in barba alle disposizioni anti-covid, avevano organizzato un festino a base di droghe ed alcol. Non era questa la prima volta, i carabinieri li stavano tenendo sott'occhio. Tutti, fra l'altro, sono stati sanzionati per aver violato il DPCM. Un'indagine accurata, quella dei militari dell'arma, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti fra giovanissimi. Il monitoraggio di alcuni di essi ha portato all'arresto di un giovane 22enne del posto, questo pusher, che riusciva tramite i social network ad agganciare i propri clienti e ad avviare e portare avanti questa attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lo spacciatore, anche lui giovanissimo 22enne del posto, conosciuto alle forze dell'ordine per reati sempre legati allo spaccio, sono scattate le manette. Denunciati a piede libero due coetanei, amici stretti dell'arrestato, trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana e hashish, un quarto segnalato alla prefettura quale assuntore. I contatti fra pusher e clienti avvenivano tramite social. Lo spacciatore agganciava i clienti tramite social network, contattava giovanissimi alla cifra di circa 10 euro al grammo, parliamo di sostanze stupefacenti, di tipologia marijuana e hashish, quindi sfruttando anche questo prezzo abbastanza favorevole agganciava i giovani clienti per poi portare avanti questa attività. A casa del 22enne, nascoste all'interno di uno zainetto, sono stati trovati e sequestrati 650 grammi di marijuana, 220 di hashish e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Una guerra, quella dello spaccio, che sempre più coinvolge i giovanissimi e che i carabinieri combattono ormai quotidianamente.